è bene stai qui, vai vai un saluto Italia 1 vai vai Italia 1 vai vai melone, otto numero uno muovete, è una passeggiata andate muovete, movimento è dura, è dura sbagliato, vai ci devo muovere e che caspita ci vuole la bobbaccia vai 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 certo, sicuramente sicuramente vai 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 guardare qua vai 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 Grazie a tutti.